mio caro marito ti scrivo come che tu mi chiedi per dirti che la famiglia sta bene così pure io che in salute non posso lamentarmi se non sarei per il lavoro che mi pisa sulla schiena come un ammazzacani ve lo dico io che il paradiso dice perché sono stata una vita a torino mi fa questa signoria non sono andata non posso dire però si sta sempre meglio di qua grazie